Buca strinta, ogo zerao, lo vai, lo vai so faccio Barra niente, non ramita benza vi ciò chiede Non ramita benza vi ciò chiede Tendo a oggi che c'è, rifotta, fotta, canta di sorigamia Oia bovia, oia bovia, non lo progettizia Oggi ma la fa il sapore per rimbocchi Non convenirà da scuttare, lascia d'andai vi ciò chiede Lascia d'andai vi ciò chiede Un passato di viaggi a metà strada tra Nord Italia e tra le due isole, Sicilia e Sardegna Rosalba Crilissi, ospite di Femminas di questa settimana è una donna attiva e piena di iniziativa, amante dell'arte e della cultura Nipote del professor Corrado Cordaro, fondatore e proprietario della storica cartuleria Cordaro Crilissi via Brigata Sassari Rosalba è stata insegnante di lettere alle scuole medie e attualmente è presidentessa della sezione sassarese della FIDAPA la federazione donne e arti, professioni e affari Bentornati a Femminas La nostra ospite di oggi è Rosalba Crilissi è insegnante in pensione, attuale presidente della FIDAPA della sezione di Sassari ma soprattutto da come si vede in questa casa magnifica, artista una casa veramente d'arte, se così possiamo dire quindi Rosalba io partirei proprio da questa passione dimmi un po' come nasce, anche perché vedo che ti sbizzarrisci un po' in tutto dal decoupage, alla pittura, al restauro In linea di massima l'arte mi ha sempre interessato anche quando facevo l'insegnante tant'è che non mi sono limitata a fare solo l'insegnante ero attratta dal teatro e dunque ho fatto tanto teatro con i miei alunni abbiamo vinto premi e siamo andati in giro per l'Italia a rappresentare varie opere e dunque facendo teatro non solo si esaminavano opere letterarie eccetera però ci costruivamo tutto da noi, anche gli scenari eccetera dunque ho incominciato un po' lì tutto quanto poi una volta andata in pensione avevo più tempo libera ormai dagli impegni, dagli orari scolastici dal problema a famiglia perché nel frattempo i figli sono cresciuti e sono andati fuori seguendo le loro strade e mi sono dedicata a quella che era una mia passione dunque ho cominciato a dipingere non solo a dipingere ma a fare restauro mobili restauro di oggetti vari insomma tutto ciò che era qualcosa di creativo smesso di insegnare visto che l'insegnamento è sempre qualcosa di creativo però i risultati non li vedi subito, li vedi lontano nel tempo con il fare veramente con le mani vedevo subito il risultato e mi dava più soddisfazione insomma dava un risultato un po' a questa creatività che sentivo davvero e così ho cominciato a dipingere sono andata anche a una scuola di pittura ma c'era qualche artista in casa? da chi è ereditato questo genere dell'arte? mio padre dipingeva per diretto chiaramente però aveva questa sua passione aveva fatto anche l'istituto d'arte eccetera dunque architettura dunque c'era questa vena insomma e a proposito del tuo padre Crilissi non è un cognome diciamo un proprio locale da dove viene? Crilissi come cognome è un cognome piemontese anche se mio padre è nato a Roma da genitori piemontesi e abruzzese dunque è un miscuglio e poi è venuto in Sardegna si è sposato qua e siamo nati noi figli siamo nati qua e cresciuti qua però c'è qualcosa che viene da fuori ecco e come è arrivato tuo padre in Sardegna? dopo la guerra dopo la guerra come insomma un po' alla ricerca di lavoro lui faceva l'avviatore dunque finita la guerra non aveva attività e si è messa a fare un po' rappresentante dunque è venuto come rappresentante mia madre aveva allora la libreria che era Cordaro Cordaro insomma e poi che era una vecchia libreria fatta da mio nonno nei tempi proprio del fascismo tant'è che era nata come libreria del Balilla addirittura perché vendevano le divise ma dove è questa? in via Brigata Sassari in via Brigata Sassari sì e dunque così mio padre è andato lì per vendere i suoi prodotti le sue cose dunque c'è rimasto invece dalle otta fu la libreria sì sì è rimasto lì e insomma poi ha preso in mano le redini della libreria l'ha portata avanti per tutti questi anni esisteva ancora fino a qualche anno fa bellissimo ma ascolti di tuo padre cosa sai prima della carriera diciamo come avviatore? che cosa faceva? da che famiglia veniva? era una famiglia abbastanza diciamo composta diversamente la mamma veniva da una famiglia di artisti avevano una compagnia teatrale e anche se poi lei non ha continuato questa sua professione ma ha fatto la mamma di famiglia la casalinga e il padre era un ferroviere di origine piemontese e hanno avuto una barca di figli credo che siano nove figli e mio padre era il più piccolo e dunque insomma un pochino studiava eccetera però insomma la famiglia allora si doveva dare da fare e allora poi è scoppiata la guerra che lui era giovane e dunque ha fatto l'aviatore in guerra eccetera e poi non è riuscito se l'è scritto all'università in architettura ma bisognava cercare di vivere e dunque non poteva fare lo studente cioè la famiglia allora non poteva e quindi sceglie la Sardegna perché proprio la Sardegna? no lui dice sempre che aveva trovato un suo amico reduce dalla guerra anche lui che era sardo e faceva rappresentante veniva, ritornava in Sardegna e l'ha portato con sé dice vieni ti do parte della mia attività vieni con me eccetera è arrivato in Sardegna e qua è rimasto infatti quindi conosce tua mamma e la famiglia di tua madre invece è proprio di Sassari? no no di Sassari niente ci sono solamente io e mio fratello che siamo nati qua però diciamo che siamo di origine italiana io dico perché adesso ci sono tutte le regioni mia madre era di origine nata in Sicilia da genitori tutti siciliani mio nonno era professore al liceo classico di Palermo e viene in Sardegna si trasferisce in Sardegna dove fa il professore anche qua e porta la famiglia porta la famiglia fonda la famosa libreria ma era anche lui uno spirito abbastanza artistico amava molto la scherma tutto ciò che riguarda le cose abbastanza cavalleresche di un tempo perché proveniva da una famiglia un po' altolocato diciamo un po' nobile e lui dunque faceva tutte queste cose faceva ha fatto anche credo uno degli ultimi duelli che si è tenuto a Sassari addirittura no mi devi raccontare questa storia insomma purtroppo nonno era un po' un donnaiolo e dunque è venuto in Sardegna proprio nonostante i figli la moglie eccetera al seguito di qualche donzella che l'aveva attirato e dunque viene qua e continua con la sua attività però era uno spirito abbastanza libero fonda la libreria fonda il circolo schermistico sassarese di Sassari e insomma tuo nonno si chiamava? si chiamava Corrado Cordaro 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 Casanova gli faceva un baffo praticamente e dunque qua insomma nel frattempo la moglie era morta rimangono queste figlie e questi figli che erano diversi insomma e lui li mette un po' prima fonda la libreria poi li mette in libreria e lui continua i suoi viaggi e le sue escursioni per l'Italia e così mia madre rimane nella libreria e continua questa attività che era stata fondata da mio nonno mentre mio nonno vagava vagava per l'Italia è stato ovunque vabbè ciò che erano i libri antichi di tutto anche perché le figlie a un certo punto vedendo questa sua passione per le donne bastava che trasse una bella donna in negozio lui regalava libri quanto c'era dunque a un certo punto e hanno detto beh insomma va in giro altrimenti qua andiamo in rubina e dunque è così questa avventura familiare e invece tu padre e tua madre si conoscono più in questa libreria te l'hanno raccontato un po' il momento dell'incontro è dovuto a questo nonno un po' così un po' vivace visto questo mio padre era un bellissimo giovane c'è da dire insomma una specie di Raul Bova si chiamava Raul però ci assomiglia anche parecchio e insomma entra in negozio cercando di vendere il mio nonno attacca bottone chiacchierano fanno e lo invita a casa dicendo siete rappresentanti siete qua fuori dal vostro ambiente dalla vostra casa venite a casa a casa c'era la figlia dunque la figlia cucinava eccetera così si passano un po' di tempo si frequentano ed è andato così pensavo che tuo nonno l'avesse sfidato a duello perché lo vedeva come pendenziale no 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 lui portava tutti a casa lui cercava sempre era un uomo abbastanza si sono sposati a Sasseri dove? si la chiesa di San Giuseppe credo San Giuseppe come minimo avranno fatto la cosa in carrozza no no una cosa molto semplice erano i tempi di dopoguerra dunque non c'erano gli sparsi che potevano esserci precedentemente o successivi poi no era una cosa molto tranquilla e vabbè così e tu sei quanti figli hanno avuto i tuoi? quanti siete in famiglia? siamo in tre siamo tre figli due femmine e un maschio il maschio il più piccolo niente praticamente abbiamo fatto gli insegnanti mio fratello invece non si è laureato ma è un appassionato di fotografia dunque anche lui comunque tutti un po' artisti qualcosa c'è qualcosa un po' raccontami un po' di questa Rosalba bambina che vaga per le vie di Sasseri Rosalba bambina ero una bambina devo dire molto timida che amava tantissimo leggere tant'è che si dimenticavano anche della mia esistenza perché io mi rifugiavo in un cantuccio della libreria con i libri in mano e leggevo che pacchia leggevo e non sapevano neanche dicendo dove è finita io avevo qualche libro in mano e un cantuccio e lì poi niente frequento le scuole di San Giuseppe però ecco non ho una continuità di vita a Sassari in quanto mio padre e mia madre con la libreria erano molto impegnati e allora spesso io emigravo presso una zia zia in genere signorino senza figli che ben volentieri prendevano noi per tenerci, avere una certa compagnia e seguirci insomma per aver visto che a casa si rischiava di rimanere abbastanza da soli perché loro il lavoro ce l'avevano dalla mattina alla sera dunque con i figli era un po' un problema e sono andata dunque prima per un certo periodo presso una zia paterna nella zona di Latina quella zona lì dove poi è andata a finire il mio figlio poi sono stata diversi anni fino al diploma magistrale in Sicilia dalla sorella di mia madre ecco quindi le superiori praticamente le hai fatte in Sicilia sì le ho fatte in Sicilia poi sono ritornata qua dove ho fatto l'università a Cagliari non sentivi la nostalgia della famiglia? sì c'era in effetti in tutti questi vagabondaggi in questi vagabondaggi che cosa succedeva? che io mi sentivo a volte un po' sradicata da ovunque in Sicilia presso i siciliani diciamo le mie compagnie lì del tempo io ero la sardignola come si dice fuori dunque anche se con una certa curiosità benevole ecco invece quando ero in Sardegna che tutto sommato c'ero nata qua dunque ero anche di cultura sarda sassarese perché le scuole le avevo iniziate qua tutto ero la siciliana con un certo disprezzo perché in genere si vede siciliani un po' male un po' tipo dalla padella alla braccia al contrario io non avevo diciamo radici da nessuna parte da una parte e dall'altra ero sempre un ospite che non insomma di passaggio poi però ho fatto tutta l'università qua quindi arrivi a Cagliari e fai l'università però ci dobbiamo fermare un attimo a Cagliari è questo tuo diciamo fermarti un attimo dopo tanti giri tanti viaggi perché dobbiamo mandare la pubblicità quindi linea analogia e ci vediamo tra poco con Feminas grazie